Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Bloccata la banda dell'abbraccio fatale arrestati tre nomadi che facevano sparire collane d'oro e orologi con la scusa di un abbraccio Mal tempo, forti piogge e disagi nelle marchi a fossombrone infiltrazioni d'acqua dal tetto della scuola La città di Fano conquista la bandiera blu anche per il 2016 Fano per la vita, Paolo Belli della Nazionale Cantanti consegna i proventi di 27.000 euro alle associazioni Adamo e Onfalos L'alma Juventus Fano batte in casa il Matelica e si assicura secondo posto in classifica da metà maggio sarà sfida play-off Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia In apertura la cronaca I carabinieri di Mondolfo hanno arrestato tre persone specializzate nelle rapine con abbraccio ai danni di persone anziane ma anche di soggetti deboli Sentite in che modo operavano La tecnica è sempre la stessa Avvicinano una persona su quegli anni fingendo di conoscerla fanno riferimenti a fantomatiche amicizie comuni e poi abbracciano calorosamente la vittima prescelta Di fronte a tanta gentilezza e affetto difficilmente malcapitato riesce a percepire l'inganno Si accorge solo quando ormai è troppo tardi ritrovandosi senza collana, orologio o altri oggetti di valore Questa scena si è ripetuta in pieno centro a Mondolfo Una signora di 62 anni con un bel collier d'oro al collo è stata presa di mira da una banda di ladri Una donna si è avvicinata ha ripetuto il solito copione e alla fine l'ha abbracciata La 62enne però si è resa conto che l'era stata sfilata la collana e ha regito urlando e cercando di rientrare in possesso del prezioso ma ad aiutare la truffatrice è accorsa una complice che ha afferrato il monile e ha spintonato la signora per poi darsi alla fuga Sono salite a bordo di una BMW parcheggiata lì vicino con motore acceso dove un uomo al volante le stava aspettando Al tempo stesso le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di una persona che si è affacciata alla finestra di casa e ha assistito alla scena Il testimone ha chiamato il 112 e ha fornito ai carabinieri una prima descrizione del mezzo Sono scattate le ricerche da parte dei militari di Mondolfo che hanno chiesto la collaborazione delle forze di polizia Circondata la zona lungo la strada cesanense e in direzione mare i carabinieri hanno incrociato l'auto sospetta mentre superava i veicoli fermi per il semaforo rosso e per sbarrare la strada i fuggitivi hanno messo la pattuglia di traverso e armi in pugno hanno bloccato la BMW In seguito sono giunti in supporto i carabinieri di Monteporzio e i vigili urbani di Mondolfo All'interno le due donne erano ancora in tenta a cambiarsi d'abito per eludere eventuali riconoscimenti Fatti scendere i tre dall'auto per essere perquisiti la sorpresa una donna era incinta mentre l'altra aveva con sé il figlio di sei anni Condotti in caserma sono stati riconosciuti dalla vittima L'uomo che era al volante ha 24 anni ed è nato in Germania mentre le due giovani, entrambe 22 anni, sono di origine romene Tutti e tre in Italia senza fissa dimora provengono dai campi Roma di Ancona o di San Casciano in Val di Pesa Solo 15 giorni prima erano stati deferiti in stato di libertà a Ferrara per fatti analoghi Il terzetto che è stato arrestato per rapina avendo usato violenza è stato portato in carcere a Pesaro in attesa del giudizio di convalida Il bambino invece è stato affidato ai servizi sociali del comune di Mondolfo E adesso ci spostiamo a Rubino dove oggi pomeriggio poco prima delle 15 è crollato parte del tetto con trami legno e tegole del magazzino utilizzato dall'Asura, area vasta 1 situato in via Annunziata Lo stabile era in via di dismissione quindi non ci sono stati feriti Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Urbino che per ragioni di sicurezza hanno fatto allontanare le vetture e hanno transennato l'intera area Ora spetterà al comune della città ducale prendere decisioni in merito all'accaduto E adesso parliamo del maltempo perché come era stato annunciato questa notte si è abbattuto sulla regione Marche un forte temporale Per fortuna non ci sono stati danni particolari e i fiumi sono rimasti sotto controllo Forti piogge si sono abbattute sulle Marche la notte scorsa in particolare nel centro nord della regione con cumulate fino a 40 mm A causa della pioggia una voragine si è aperta lungo una strada del centro abitato di Sant'Angelo in Pontano a Macerata scoprendo un'antica grotta sottostante ma non ci sono stati né feriti né danni alle auto La sala operativa unificata della protezione civile non segnala particolari situazioni di criticità in crescita la portata del torrente Arzilla del Metauro ed alcuni affluenti del Foglia in provincia di Pesero e Urbino Qualche disagio è stato segnalato a Fossombrone a causa di alcune infiltrazioni d'acqua dal tetto della scuola elementare Ad inviarci queste foto è stato un genitore Mauro Subissati Da anni ci ha scritto La scuola versa in pessime condizioni e nonostante le tante segnalazioni da me fatte non si sono mai visti lavori di manutenzione solo transenne per tutelarsi dalle responsabilità prosegue e l'istituto non garantisce più la sicurezza per i nostri bambini per i maestri e i collaboratori scolastici Io, a concluso il papà sono andato a riprendere mio figlio a scuola per paura di un crollo delle pareti o del tetto dell'edificio Nel pomeriggio però è arrivata la replica dell'amministrazione comunale Il vice sindaco infatti smentisce quanto detto dal signor Subissati Questa mattina l'ufficio tecnico si è recato presso la scuola ex Bucci alla scuola primaria del capoluogo perché era stata segnalata un'infiltrazione di acqua Questa infiltrazione era dovuta esclusivamente perché il pluviale aveva avuto un'otturazione dovuta a del fogliame cosa che può succedere in qualsiasi momento chiaramente forse sarebbe stata più opportuna una segnalazione anche di una maggiore manutenzione però nulla di grave nulla che riguardi la staticità né del tetto né della struttura quindi io voglio tranquillizzare e rasserenare tutti i genitori perché si è trattato di un nulla quindi anche le infiltrazioni dalle foto che vi abbiamo mandato e verificate dall'ufficio tecnico erano proprio minime perché comunque è una delle scuole con la maggior certificazione per quanto riguarda la staticità ed anche il certificato di prevenzione incendi Le transenne all'esterno dell'edificio invece perché cosa sono state emesse? Le transenne erano state emesse qualche anno fa per il semplice distacco di un solo decoro e nel frattempo è stata fatta tutta la procedura anche con la soprintendenza la quale ha inviato qualche mese fa l'autorizzazione per l'intervento un intervento che in questo caso prevede 35 mila euro di lavori sono dei decori installati dopo gli anni 50 che quindi necessitano di una semplice manutenzione ma che non mettono a repentaglio nel modo più assoluto la sicurezza dell'edificio a distanza di tre settimane dalla riapertura della piscina Dini Salvalai sono riprese a pieno regime tutte le attività la Fanum Fortune Nuoto società che si è giudicata alla gestione dell'impianto fa sapere in una nota che gli orari dedicati al nuoto libero sono stati aumentati e che alle società natatorie locali che usufruiscono di spazi acqua sono stati incrementati i turni settimanali per i propri atleti inoltre l'attività fornita in modo gratuito ai soggetti disabili è ripresa fin da subito e conta già 22 utenti 18 invece sono le persone abilitate all'uso del defibrillatore semiautomatico di cui almeno un paio sempre presenti in vasca la società garantisce anche il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti durante tutta la giornata a breve saranno disponibili i nuovi asciugacapelli armadietti panche e cassette di sicurezza e adesso cambiamo argomento perché le proloco della provincia di Pesaro e Urbino sabato scorso hanno eletto il nuovo consiglio direttivo si è svolta nell'ex teatro comunale di Montemaggiore a Metauro l'assemblea annuale delle proloco provinciali aderenti all'UMPLI l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia che sabato scorso hanno votato per il nuovo direttivo nove i consiglieri eletti che rimarranno in carica per il quadriennio 2016-2020 e che il prossimo 4 maggio dovranno eleggere il presidente il suo vice e il segretario e sono Damiano Bartocetti Etienne Lucarelli Laura Silvestroni Claudia Gualandri Nazareno Ratini Eleonora Marocchi Valeria Bartocci Mario Conti e Francesco Gulini dalla prossima settimana inizierà sicuramente una fase di ascolto su tutte le proloco della provincia di Pesaro Urbino abbiamo secondo me un bel progetto mercoledì ufficializzeremo le cariche istituzionali del consiglio direttivo della proloco che oramai sono quasi definite però mercoledì sera a Cartoceto arriverà l'ufficialità di tutte le nomine del nuovo consiglio direttivo che oggi qui a Montemaggiore è stato eletto tra l'altro all'unanimità da tutte le proloco della provincia di Pesaro Urbino ad aprire i lavori dell'assemblea è stato il vicepresidente dell'UMPLI Lorenzo Bonafede al quale sono seguiti i saluti del presidente della proloco di Montemaggiore Tonino Gattoni e del sindaco Alberto Alisi abbiamo accolto questo invito dalla vecchia dirigenza dell'UMPLI provinciale per ospitare appunto questo evento a Montemaggiore mi fa piacere che la gente sia venuta eravamo un bel gruppo e abbiamo organizzato anche una bella giornata all'incontro a Montemaggiore ha preso parte anche il presidente dell'UMPLI Marche Mario Borroni ci siamo trovati in questo bellissimo ambiente assemblea numerosa è partecipata con interventi molto qualificati è stato eletto il nuovo comitato provinciale di Pesaro al quale io come presidente regionale non mi resta che augurare buon lavoro e anche per il 2016 la città di Fano potrà freggiarsi della bandiera blu il riconoscimento che viene assegnato ogni anno dalla FE e la Fondazione per l'Educazione Ambientale alle località turistiche e balneari che rispettano i criteri di una gestione sostenibile del territorio la cerimonia di consegne è prevista per mercoledì 11 maggio a Roma e adesso invece parliamo di solidarietà perché Paolo Belli della Nazionale Italiana Cantanti ha consegnato a due associazioni locali il provento delle iniziative legate alla partita benefica che si è disputata lo scorso 2 aprile allo stadio Mancini di Fano per la Nazionale Italiana Cantanti di Calcio il gol finale lo ha segnato nei giorni scorsi il suo vicepresidente Paolo Belli il maestro di musica di Ballando con le Stelle nonché fondatore del gruppo musicale Ladri di Biciclette consegnando l'assegno da oltre 27 mila euro alle due associazioni per le quali questa bella pagina di solidarietà è andata in scena il 2 aprile allo stadio Mancini dove le ugole d'oro italiane si sono scontrate con i campioni per la ricerca riempendo gli spalti dello stadio con oltre 4 mila presenze nel ristorante Puntirons di Marotta il cui titolare Fabio Roberti è uno degli artefici di questa iniziativa per la quale ha ricevuto con malcelata emozione una maglia con tanto di nome sopra si sono ritrovati tutti i protagonisti di questa bella pagina di solidarietà made in Fano per chiudere il cerchio col fatto che ero impegnato in trasmissione non potevo essere presente alla partita però essendo una persona orgogliosa di far parte dei nazionali cantanti ma anche responsabile perché 30 mila euro donati da voi devono arrivare fino all'ultimo centesimo questo lo facciamo quotidianamente quindi ogni giorno che passa noi andiamo a controllare che tutto venga che sia la luce del sole che venga realizzato tutti i progetti che sono stati pensati e volevo essere in qualche modo presente e dirvi grazie perché i miei colleghi i miei amici nazionali cantanti mi hanno detto che è stata una festa nonostante c'era un tempo un po' freschino mi hanno detto che è stata una festa bellissima quindi a nome di tutti vi ringrazio e continueremo a venire qui nelle Marche perché voi siete sempre molto attenti molto vicini alle persone che soffrono quindi al nostro fianco ora Onfalos ed Adamo grazie alla somma raggiunta che arriva a toccare i 30.000 euro con le cene di beneficenza organizzate dal ristoratore potranno dar vita ai loro progetti e sentirsi meno soli nella loro lotta quotidiana a supporto di malati e famiglie una liaison di lunga data quella tra la nazionale cantanti e Fano che per volontà del primo cittadino cerca nuove strade di consolidamento non ultima un sogno nel cassetto una base operativa della stessa nazionale proprio nella città della fortuna è stata una gran festa una grande partecipazione questo mi fa piacere perché come si diceva Fano risponde sempre all'iniziativa agli eventi e anche dimostra avere una grande sensibilità anche solidaristica oggi coroniamo il risultato finale che era l'obiettivo quello di aiutare dell'associazione del nostro territorio con la consegna della segna attraverso Paolo Belli che è il presidente della nazionale cantanti quindi è un momento di soddisfazione ma dico anche che è un rapporto che può continuare con la città di Fano perché stiamo coltivando un sogno insieme alla nazionale cantanti che potrebbe vedere Fano per molti anni protagonista e adesso concludiamo con lo sport passiamo quindi al calcio di serie D perché domenica primo maggio l'Alma Juventus Fano ha battuto per 3 a 1 il Matelica allo stadio Mancini a segno Borrelli Sivilla e Ambrosini la squadra Granata conquista matematicamente secondo posto in classifica e quindi potrà giocare le due partite dei playoff previste in casa per il 15 e il 22 maggio prossimi prima però si svolgerà l'ultima gara di campionato domenica prossima Pesaro dove andrà in scena il derbissimo con appunto la Vis Pesaro e adesso proseguiamo con le classifiche l'Alma Juventus Fano Matelica come abbiamo detto 3 a 1 Folgore Veregra Campobasso 1 a 1 Olimpia Mionese San Nicolò 1 a 0 Aminternina Castelfidardo 1 a 2 Giulianova Vis Pesaro 0 a 0 Re Canatese Fermana 0 a 1 San Benedettese Chieti 1 a 2 Iesina Avezzano 4 a 2 Isernia Monticelli 0 a 5 come abbiamo detto il prossimo turno ci sarà il derby la classifica San Benedettese è prima con 78 punti l'Alma Juventus Fano seconda con 65 terza il Matelica con 55 punti Fanalini di coda Aminternina e Giulianova con 24 punti Per quanto riguarda le pagelle di Sergio Catalani Marcantonini 6 Camilloni 5 e mezzo Bartolini 6 così come Lunardini Nodari 7 Torta 6 e mezzo così come Sivilla Favo e Gucci lo stesso 6 e mezzo Borrelli 7 5 e mezzo per Marianischi 6 Gregorini senza valutazione Marconi Ambrosini 7 il mister Alessandrini 6 e mezzo Vi ricordo che fra poco trasmetteremo la partita integrale con la telecronaca di Sergio Catalani partita che si è disputata come abbiamo detto domenica primo maggio con il Matelica Vi ricordo anche che domani sera eccezionalmente andrà in onda una nuova puntata di Missione Salute dove si parlerà di ottorino la ringoiatria con il dottor Giuseppe Migliori Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani Grazie per la visione